effettivamente lo schermo in un portatile non è essenziale se lo si intende usare come server ma preferisco guardarci video su youtube e sta per uscire il nuovo video di me contro te pertanto decido di fare un bel riflow col tempo le micro saldature della gpu possono rovinarsi e determinare i malfunzionamenti per rigenerare si può usare una pistola termica in modo tale da far fondere lo stagno delle micro saldature l'unica accortezza è quella di proteggere le parti che non devono essere rigenerate praticando un foro su un cartoncino spesso in modo tale che l'aria calda vada esclusivamente sulla gpu ma bisogna essere lo stesso cauti onde evitare di fare della scheda madre una bella colata lavica declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento aspetto i vostri commenti e mi piace e le iscrizioni al canale a presto grazie per la visione ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti